no devi accendere la videocamera è accesa guarda è accesa adesso 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 si ti vedo una presenza spirituale ma che spirituale carnale carnalissimo anche molto caldo solo che invisibile ma cosa stai dicendo oddio ma cosa sto facendo perché dico cosa c'è di tanto grave fra voi due non me ne avevi mai parlato no non te l'ho mai detto sai che cosa sei ma te lo dico io che cosa sei tu sei un nulla